Caro popolo degli Emirati Arabi Uniti, alza un'arma alaikum. La pace sia con voi. Inizia così il videomessaggio che Papa Francesco ha indirizzato al popolo degli Emirati Arabi, dove, primo pontefice nella storia, sarà in visita dal 3 al 5 febbraio. Sono felice di poter visitare tra pochi giorni il vostro paese, terra che cerca di essere un modello di convivenza, di fratellanza umana e di incontro tra diverse civiltà e culture, dove molti trovano un posto sicuro per lavorare e vivere liberamente nel rispetto delle diversità. Francesco ricorda come il fondatore degli Emirati Arabi, lo Sheikh Zayed, dichiarasse che la vera ricchezza non risiede nelle risorse materiali, bensì negli uomini, nelle persone che costruiscono il futuro della loro nazione. Ringrazio vivamente Su Altezza, lo Sheikh Mohammed bin Said bin Sultan Al-Nayan, che mi ha inviato a partecipare all'incontro interreligioso sul tema della fratellanza umana. L'incontro interreligioso si terrà lunedì pomeriggio al Founder Memorial di Abu Dhabi. Un ulteriore significativo appuntamento sarà la messa che il Papa celebrerà martedì nello Zayed Sports City Stadium di Abu Dhabi. Il Ministero delle Risorse Umane ha annunciato che la giornata sarà considerata festiva per i dipendenti del settore privato muniti dai permessi per partecipare alla celebrazione. Secondo le stime del vicariato apostolico dell'Arabia Meridionale, negli Emirati Arabi vive un milione di cattolici, ma per la messa di martedì verranno distribuiti 135.000 biglietti, numero che corrisponde alla capienza massima dello stadio. Sono felice di questa occasione offerta dal Signore per scrivere sulla vostra terra una nuova pagina di storia della relazione tra le religioni, confermando che siamo fratelli pur essendo differenti. Con gioia mi accingo a incontrare e salutare i figli di Zayed nella casa di Zayed, terra di prosperità e di pace, terra di sole e di armonia, terra di convivenza e di incontro. Grazie.